Grazie a tutti. Grazie a tutti. Marco hai messo male. Gire l'introciata, gire l'introciata. Gire l'introciata, gire l'introciata. Girocchio lì, sotto il girocchio lì. Bravo. Passa, passa, passa. Così, tieni posizione. Movimento Marco da sopra, movimento, dai. Dai Marco, presa a sinistra, presa a sinistra. Bravo Marco, vai. Vieni la giù. Vai, provala, provala. Prova con le gambe Ale. Bravo. Guardalo Ale. Guardagli le braccia. Prova sulla testa, prova sulla testa. Vai sulle braccia. Lavora sulle braccia. Vai, vai. Adesso, adesso. Tienila, tienila. Prendi la testa. Vai, vai. Giù il busto, Marco. Marco, giù. Bravo. Giù il culo. Sì. Lavora, lavora. Vai col comito. Vai lì. Vai. Gira, gira. Gira, gira. Vai, neanche il massimo. Vai che c'è. Tieni il triangolo, triangolo, triangolo. Tieni il triangolo. Tieni il triangolo. Prendi la testa, prendi la testa, Ale. Prendi la testa. Così, tira, tira, tira. Prendi la testa, tira, tira. Vai superar, ok? Wuh. Bravo. 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 Grande. Vince all'angolo rosso 2-3 E ora un piccolo salto indietro bisogna recuperare